Signori, siamo arrivati. Ora è anche ufficiale. Eccolo qui, l'annuncio di presentazione, l'annuncio dell'ufficialità. Tiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus. Benvenuto, mister Tiago Motta, dicono sul sito della Juve. Andiamo a leggerci insieme questo comunicato ufficiale che io non ho ancora ovviamente letto. È uscito da veramente pochissimi istanti, pochissimi istanti. La voce non è spezzata dalle lacrime, dalla commozione, ma da un abbassamento di voce terrificante che ho in questi giorni. Quindi questo video dell'annuncio di Tiago Motta passerà la storia per la mia voce un po' ballerina. Benvenuto! Mister Tiago Motta è ufficiale. Il prossimo allenatore della Juventus sarà Tiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha firmato un accordo con la Juve fino al 30 giugno 2027. Quindi significa contratto triennale, come era stato detto nelle ultime settimane, e non due anni più opzioni per il terzo. 42 anni ancora da compiere, un bambino. Quindi abbiamo 10 anni di differenza io e il mister. È un 82. Tiago Motta ha intrapreso nel 2018 la carriera d'allenatore, partendo dalle giovanili della Paris Saint-Germain. La squadra con cui aveva pochi mesi prima terminato la sua avventura da giocatore. In Italia è arrivato sulla panchina del Genoa nel 2019 per poi allenare lo Spezia e il Bologna. La squadra nella quale negli ultimi due anni è riuscito a mettere a frutto al meglio le sue idee di gioco e con la quale ha raggiunto una storica qualificazione alla Champions League. Addirittura ci sono le prime parole del nuovo tecnico. Le prime parole di Tiago Le prime parole di Tiago Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus. Ringrazio la proprietà, la dirigenza, cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi. Benvenuto alla Juventus e buon lavoro, Mr. Tiago Motta. Questo è il comunicato ufficiale. Ora è ufficiale. Tiago Motta è il nuovo allenatore della Juve. Prima di tutto io voglio rivolgermi un po' a voi che siete la mia community e che in tutte queste settimane, in tutti questi mesi avete ascoltato i tanti bla 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 bla. Per tanti video, tanti contenuti, ma anche tante dirette ci siamo raccontati che nel momento in cui avevamo avuto la conferma non ufficiale della Juve ma ufficiosa per quello che era stato detto l'allenatore sarebbe poi stato Tiago Motta e mi fa piacere, mi fa molto piacere vedere la reazione che c'è stata anche da parte vostra che secondo me avete un po' incominciato a capire che c'è anche un altro tipo di informazione che è diversa da quella dei giornali. Perché vi dico questo? Perché ho un pochettino compreso, capito che i giornali sono rimasti la fonte di informazione per persone con una fascia di età molto elevata o che comunque non sono così affini con la tecnologia, con internet. Ci sono tanti posti sull'internet in cui è possibile documentarsi per arrivare a determinate informazioni. Abbiamo letto sui giornali fino a poche settimane fa quando ancora, anzi anche dopo l'esonero di Massimiliano Allegri abbiamo letto tanti giornali storici in Italia avere il dubbio comunque sul fatto che Tiago Motta potesse effettivamente arrivare la Juve. Io difficilmente ho delle informazioni ma quando decido di parlarvi è perché solitamente mi sono arrivati degli spifferi importanti e quindi voglio ringraziare tutti quanti per la fiducia che avete riposto perché io in queste settimane ho visto che non avevate i dubbi non avevate i dubbi cioè ci siamo detti anche proprio nelle ultime ore sì, questa attesa sta iniziando a essere stancante è un'attesa che ci dicono sì, prima questo giorno, poi quell'altro ma poco importa perché siamo convinti che alla fine arriverà Tiago Motta erano veramente poche le persone che avevano ancora dei dubbi qualcuno che diceva ma perché Tiago Motta dovrebbe venire via da Bologna per allenare la Juve e invece io voglio ringraziare tutti quelli che hanno dato fiducia a quello che abbiamo detto e che ci siamo raccontati qui sul canale qui su tutte le piattaforme quindi grazie mille a tutti per la fiducia è stato un bellissimo gesto anche da parte vostra c'è un piccolo video di presentazione della Juventus nei confronti di Tiago Motta io voglio farvelo vedere prima di partire con quella che potrebbe essere l'analisi eccolo qui il video di presentazione la Juventus che scrive TM col pallone c'è questo pallone che rotola giù dall'Allianz e finisce all'interno del campo dove sul campo ci sono anche altri palloni che visti dall'alto vanno a formare TM Tiago Motta io ho già messo like adesso ripostiamo questo video io ho commentato dicendo chi è ci sono 23 commenti ho paura a leggerli perché ho usato l'ironia e c'è qualcuno che potrebbe averlo preso seriamente quindi dopo con calma vado a leggermi tutti questi commenti andiamo a vedere che cosa sarà allora signori vi dico una roba oggi inizia ufficialmente un nuovo ciclo per la Juventus un ciclo anche molto ambizioso molto ambizioso perché si sta andando a prendere un allenatore che è un allenatore esordiente è un allenatore che a grandi livelli ancora non ha mai allenato ci è arrivato soltanto da giocatore ha fatto una carriera vincente Tiago Motta si va a prendere un allenatore che a me a livello umano non ha mai regalato grande simpatia ve lo dico proprio tranquillamente perché io me lo ricordo il Tiago Motta dell'Inter ed era un giocatore che mi stava terribilmente tremendamente antipatico viviamo in una serie A in cui di recente abbiamo visto Marotta presidente dell'Inter Conte che dopo l'Inter si fa il Napoli quindi stiamo parlando di un calcio di professionisti in cui in Italia veramente si si mischia il tutto io me le ricordo quelle foto con Tiago Motta e Del Piero Tiago Motta e Buffon poi lo stesso Buffon l'anno scorso un paio di anni fa ci ha abbastanza spiegato che in realtà problemi tra lui Tiago Motta non ce n'erano anzi Buffon lo riteneva un grandissimo calciatore anzi uno dei migliori all'interno del panorama calcistico italiano e della nazionale italiana quando comunque era stato anche abbastanza sottovalutato ma anche da me perché Tiago Motta è stato un bravissimo calciatore ma io non sono mai stato particolarmente amante del Tiago Motta calciatore e quindi è anche strano stranissimo da parte mia avere uno come lui alla guida della Juve serve tanta fiducia serve tanto lavoro ora cambia tutto l'approccio che c'è stato rispetto agli ultimi anni non ci sono delle scorciatoie non ci sono dei calciatori da andare a prendere che da soli possano essere la risposta a una determinata problematica la problematica va risolta attraverso il lavoro veramente la valorizzazione non significa che non si spenderà perché la Juve farà un mercato grande farà un mercato importante indubbiamente però ora si passa dal campo ora si passa dalla sfera ora si passa dal pallone adesso si passa da queste cose qui e sarà secondo me molto molto divertente e già il fatto che si è parlato di ambizione nel comunicato ufficiale mi fa contento mi rende abbastanza felice sono curioso sono divertito sono incuriosito veramente sono incuriosito perché è troppo strano ormai lo sapevamo ce lo aspettavamo era lui e il nome e per la prima volta ragazzi abbiamo la Juve che identifica un allenatore e va a prendere quell'allenatore quindi bravo giuntoli perché Tiago Motta è stato il nome numero uno in cima alla lista a differenza di quando nel 2019 si era deciso di cambiare Allegri senza aver la conferma di quelli che sarebbero stati poi i candidati e si è andati su Maurizio Sarri che era il profilo giusto dal punto di vista dell'allenatore ma non il profilo giusto dal punto di vista umano e l'abbiamo visto quanto è durato Sarri non è stato protetto dalla dirigenza finalmente invece ora abbiamo un dirigente sportivo che ha scelto di iniziare un nuovo corso con un uomo che voleva lui con l'allenatore che voleva lui e quindi siamo di fronte veramente a un inedito nella storia recente della Juve dove c'è una dirigenza sportiva che si mette in gioco per costruire da zero il futuro della Juve sono molto molto curioso di vedere quello che accadrà e niente è iniziata ufficialmente l'era di Tiago Motta alla Juventus e ora vedremo quali saranno i primi acquisti ufficiali che Giuntoli riuscirà a regalare al nostro nuovo mister tanti auguri mister in bocca al lupo buon lavoro e come mi piace sempre augurare anche ai nuovi allenatori facci vincere perché abbiamo voglia di tornare vincenti e quindi antipatici forza Juve